Più di 86 milioni di euro di fondi europei destinati ad interventi di sviluppo urbano e il programma operativo Città Metropolitane 2014-2020 presentato questa mattina a Castel del Lovo che consentirà di mettere a punto per Napoli un piano di azioni mirate al rilancio del territorio. 36 progetti incentrati su quattro assi fondamentali, l'agenda digitale metropolitana, la sostenibilità dei servizi pubblici e la mobilità urbana, i servizi per l'inclusione sociale e le infrastrutture per l'inclusione sociale. Abbiamo governato in questi anni davvero con pochissime risorse economiche, però se guardiamo la cifra di quanto è grande l'area metropolitana di Napoli, di quanto potremmo essere rapidi e utilizzare molte più risorse, poco più di 80 milioni, è sicuramente una goccia. È una goccia che però noi facciamo diventare significativa per servizi strategici, dalla digitalizzazione al risparmio energetico, alla mobilità, al diritto all'abitare, alla solidarietà, all'inclusione sociale. Poi cerchiamo di mettere insieme, grazie alla nostra strategia, risorse che vengono anche da altre leve. Pensiamo al patto per Napoli, di cui abbiamo parlato più volte, al bando per le periferie ed altro. Al Comune di Napoli è affidata la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, a ridurre i consumi energetici degli edifici pubblici, a rendere più intelligenti e sostenibili i sistemi di trasporto collettivi ed a promuovere azioni di inclusione attiva con la riqualificazione e il recupero di alloggi di edilizia pubblica e strutture di ospitalità. Io credo che il Paese dovrebbe maggiormente andare in questa direzione, come lo chiediamo noi dell'Anci, noi sindaci, più soldi direttamente alle città, quindi non solo beneficiari ma anche enti intermedi. In questo modo non si restituirebbero tante risorse come fanno le regioni indietro oppure non si darebbero con tanti anni di distanza. Le amministrazioni locali in sinergia con le altre istituzioni, in connessione con il territorio, sono più efficaci e più rapide, anche perché abbiamo dimostrato che questi progetti vengono decisi attraverso un dialogo forte con gli abitanti della città, cosa che non avviene quando ci si chiude in alcune stanze e si fanno delle volte le progettazioni che non servono a nulla su progetti che non servono poi ai territori, come se visse con tante opere pubbliche realizzate o mal realizzate o addirittura mai realizzate nel nostro Paese.